Eccoci su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia, apriamo facendo il punto sulla guerra in Ucraina, ha parlato nuovamente il presidente Zelensky, il rischio di chiudere completamente qualsiasi dialogo con i russi è altissimo, ha affermato Zelensky nel corso di una conversazione con i media polacchi, inoltre il processo di negoziazione con i rappresentanti di Mosca ha aggiunto procede molto lentamente, per questo ha ribadito serve un incontro diretto tra lui e Vladimir Putin, ovvero l'uomo che decide tutto in Russia, se c'è una sola possibilità dovremmo parlare, ha affermato Zelensky. Intanto si continua a combattere, siamo ormai oltre i due mesi di guerra, i soldati russi hanno sparato contro due autobus che stavano evacuando civili dalla città di Popashna nella parte orientale di Luhansk, lo ha reso noto il sindaco della città, dopo l'attacco la comunicazione con gli organizzatori dell'evacuazione che erano nel veicolo è saltata e non è stato ancora possibile sapere se ci sono vittime e sempre a Luhansk due scuole e due palazzi residenziali sono stati danneggiati dai bombardamenti dell'esercito russo nelle ultime 24 ore. E ancora un mezzo della polizia che consegnava forniture mediche a un ospedale è stato centrato da colpi di mortaio a Severodonetsk, lo ha scritto il capo dell'amministrazione militare regionale su Telegram, anche un'auto di volontari è stata colpita dal fuoco dei soldati russi, per il momento non si hanno notizie di feriti o vittime e infine ancora spari su due autobus che portavano in salvo decine di persone da Popashna in Ucraina, persi i contatti con gli autisti e dunque vedete si continua purtroppo a sparare anche su mezzi che trasportano aiuti umanitari in questo caso e dunque la situazione continua ad essere tragica e drammatica in Ucraina. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca siciliana a Catania, c'è stato un arresto da parte dei carabinieri, una giovane era in discoteca con tanto di pistola e colpo in canna, vediamo i dettagli. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile hanno arrestato un catanese trentenne nella flagranza di reato di porto, detenzione e ricettazione di un'arma da fuoco clandestina. Intorno alla mezzanotte dello scorso 25 aprile un militare del nucleo investigativo libero dal servizio nei pressi di un noto villaggio turistico sito sul lungomare Kennedy, dopo aver notato un gruppo di una quindicina di persone intente a discutere animatamente, ha richiesto l'intervento di equipaggi del nucleo radiomobile al fine di evitare che la situazione potesse degenerare anche in considerazione dei recenti violenti episodi verificatisi nei pressi di un locale del centro cittadino. Nella circostanza, all'arrivo dei militari, uno dei soggetti più esagitati è stato fermato mentre tentava di defilarsi per sottrarsi al controllo. Il trentenne è stato quindi bloccato e identificato risultando tra l'altro essere parente di un esponente di primo piano della famiglia di Cosa Nostra Santa Paola Ercolano, ma soprattutto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 con colpo in canna ed altri 6 nel serbatoio, a mente la matricola brasa è occultata nella tasca posteriore dei pantaloni. L'arma è stata sequestrata e sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina al fine di verificarne l'eventuale utilizzo in eventi delittuosi. Il trentenne è stato associato presso la locale casa circondariale di Piazza Lanza, dove tuttora permane su disposizione dell'autorità giudiziaria all'esito dell'udienza di convalida. Ed ora a Caltagirone, dove un giovane ha sparato a un altro ragazzo, pare per questioni sentimentali legate ad una ragazza. Ha sparato un colpo di fucile ferendolo al braccio, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. I militari della compagnia di Caltagirone hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventenne calatino gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco in luogo pubblico. Il fatto è accaduto intorno alle 2 del 28 aprile scorso, quando un 24enne del posto, vittima del tentato omicidio, si è autonomamente recato presso il pronto soccorso di Caltagirone in quanto aveva subito un'aggressione armata ed era stato attinto da un colpo di fucile al braccio sinistro. Le indagini svolte dai carabinieri nell'immediatezza hanno consentito di acquisire primi importanti elementi indiziari a carico del ventenne che, tra l'altro, sarebbe stato riconosciuto dalla vittima durante l'azione di fuoco. Secondo i primi accertamenti, il presunto autore del reato avrebbe iniziato la propria condotta violenta già alcune ore prima, inizialmente a bordo della sua autovettura, inseguendo la vittima per le vie del centro. Nel corso dell'inseguimento avrebbe raggiunto e costretto il 24enne ad arrestare la marcia del proprio veicolo, colpendolo con un bastone provocandone la rottura di finestrini e l'unotto posteriore. Infine, le attività svolte hanno permesso di ricostruire la dinamica secondo cui i due giovani si sarebbero dati appuntamento poco dopo nella contrada collegiata di Caltagirone, verosimilmente per regolare i conti in merito a questioni sentimentali legate ad una ragazza e l'accusato, che nel frattempo si sarebbe armato di un fucile illegalmente detenuto, che non è stato ancora rinvenuto, avrebbe attinto il 24enne con un colpo a bruciapelo. Il giovane non versa in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Il ventenne invece è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa della convalida del fermo eseguita da parte del GIP. Ancora furti nelle aree rurali di Vittoria, i carabinieri hanno arrestato tre giovani. Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa nel territorio di Vittoria per contrastare i reati predatori nelle aree rurali della giurisdizione e dare una pronta risposta alle esigenze di sicurezza della comunità. Lo scorso 25 aprile, durante un servizio di perlustrazione, i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Vittoria e del comando stazione di Vittoria hanno stretto le manette ai polsi a tre nulla facenti vittoriesi, un 25enne, un 23enne e un 22enne, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine. I tre, verso l'ora di pranzo, approfittando della giornata di festa e quindi della poca presenza di persone in strada, avevano smontato 22 sbarre in alluminio da una struttura serricola a Vittoria ed erano pronti a caricarle su un loro furgone perché gli servivano per completare un'altra struttura nel terreno di uno di loro. Gli arrestati sono stati tradotti presso le loro abitazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato gli arresti. E proseguiamo con la nostra ampia pagina di cronaca, adesso leggiamo alcune news dal nostro giornale online spazionotizia.it. La prima arriva da Gravina di Catania, tenta di rubare i cerchi da un'auto e viene denunciato. Leggiamo il dettaglio. I carabinieri della stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un trentenne del posto in quanto gravemente indiziato di furto aggravato. Nella nottata i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un residente di movimenti sospetti di una persona nei pressi di un'auto posteggiata in via Principato di Monaco. L'equipaggio, sopraggiunto celermente nel luogo indicato, ha sorpreso il trentenne mentre ancora accovacciato armeggiava con i cerchi delle ruote di un'auto parcheggiata. La vista dei carabinieri si è subito dato alla fuga, correndo e disfacendosi per prima cosa di una chiave a croce che stava utilizzando per smontare i bulloni, salvo poi dirigersi verso una vasta area verde poco distante. Fuggitivo però, nel tentativo di imboscarsi e far perdere le sue tracce tra la vegetazione, ha perso il telefono cellulare che è stato recuperato dai carabinieri e ha iniziato a squillare. E proprio la suoneria del telefono ha allertato il trentenne che ha accortosi di averlo perso e pensando che fosse poco distante da lui è sbucato dalle sterpaie dove si era nascosto per cercare di recuperarlo, ma ha trovato i carabinieri che dunque lo hanno beccato. Rimaniamo ancora su Spazio Notizia. Una brutta tragedia, ancora sangue sulle strade siciliane, stavolta a Ribera dove è morto un 44enne, incidente mortale nell'agrigentino, un 44enne Vincenzo Spagnuolo, imprenditore nel settore turistico, ha perso la vita dopo un terribile impatto avvenuto sulla statale 115 all'altezza del Bivio per la frazione riberese di Borgo Bonsignore. Per cause ancora da accertare, l'uomo in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto. Spagnuolo è stato portato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove è giunto in condizioni critiche e i medici purtroppo non sono riusciti a rianimarlo. Chiudiamo questa pagina di cronaca con un incendio a Zafferana Etnea, un incendio in una mansarda, tanta paura. Vi mostriamo anche le immagini di questo incendio avvenuto in un edificio situato in via Nuova Guglielmo Marconi. Fortunatamente sia nella mansarda dove si è propagato il rogo che nei piani sottostanti non erano presenti persone a domare le fiamme. Ci hanno pensato i vigili del fuoco volontari del distaccamento di lingua glossa insieme alla squadra del distaccamento di riposto. Le cause che hanno scatenato l'incendio sono ancora in corso di accertamento, ma la cosa molto più importante ovviamente è che non ci sono stati feriti. Cambiamo adesso argomento, parliamo di politica. Il presidente Nello Musumeci ha parlato ieri a Milano, punta sull'unione del centrodestra. Vediamo il servizio. Nel centrodestra in Sicilia nessuna contesa, c'è soltanto la necessità di fare chiarezza. Sono convinto che i leader delle varie forze politiche troveranno le ragioni che uniscono piuttosto che quelle che dividono. Sono fiducioso. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci parlando alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano. Sono convinto che troveremo l'unità, ha ribadito, e che troveremo la forza dello stare insieme. Sto governando con la Lega e Forza Italia insieme dal primo giorno. Ho affidato a Giorgia Meloni la soluzione del problema siciliano qualunque essa sia, ha detto Musumeci a chi gli domandava se fosse disponibile a correre da solo in caso di mancato accordo nel centrodestra. Il governatore si è detto ottimista. Sono convinto che alla fine prevarrà il buon senso da parte di tutti i leader del centrodestra. Sto governando con tutti. A livello locale siamo uniti, quindi credo sia una battaglia che leggo solo sui giornali. Ringrazio Fratelli d'Italia per la fermezza e la tenacia con cui stanno perorando questo diritto, cioè che un uscente che abbia lavorato, che sia una persona per bene e da noi in Sicilia è una cosa che costa, non sia sostituito. Salvini ha detto decidano i siciliani, ma certo, ha concluso il presidente, un intervento nazionale aiuterebbe. Ed ora una bella notizia per chi volesse trascorrere un primo maggio all'insegna della cultura e senza spendere un euro. Domeniche al museo riprende l'iniziativa che prevede ogni prima domenica del mese in Sicilia l'ingresso gratuito in parchi archeologici, musei e luoghi che dipendono dall'assessorato regionale dei beni culturali. Il primo maggio dunque sarà possibile visitare i principali siti dell'isola senza pagare il biglietto, così come disposto dall'assessore regionale Alberto Samonà aderendo all'iniziativa del Ministero della Cultura. Diverse le mete da scegliere, a Palermo ad esempio sarà possibile visitare la galleria di Palazzo Abatellis, così come il Museo archeologico regionale Antonino Salinas, Palazzo Mirto e il Castello della Zisa. Sarà aperta a Catania la chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi, ma si potrà visitare anche il Teatro Romano e l'Odeon. Tra i siti più gettonati c'è sicuramente la Valle dei Templi ad Agrigento, mentre a Siracusa è impossibile non godersi lo spettacolo dell'area archeologica della Neapolis. Diversi i siti aperti al pubblico anche a Ragusa e Trapani, così come a Enna con la Villa Romana del Casale a Piazza Almerina e l'area archeologica di Morgantina e il Museo di Aidone. Nel Messinese infine si potrà visitare gratuitamente il Parco archeologico Naxos e il Teatro Greco di Taormina, ma anche il Museo Naturalistico Regionale di Isola Bella e Villa Caronia. Per il momento è tutto, non ci sono altri aggiornamenti, a più tardi per una nuova edizione di Spazio e Notizia sempre su Sicilia 24.